Ciao 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 a tutti ragazzuoli, sono Petro con il tanke e questo nuovissimo video che faccio questa volta nella serie nella terra di Steve, quindi in Minecraft. Allora, questa è la puntata numero 7, oggi vi faccio vedere cosa faremo, ma prima vi faccio vedere come ogni volta le novità. Allora, l'ultima volta abbiamo fatto questa bellissima farm di Selce, l'abbiamo abbellita, io ci ho solo aggiunto lo standardo e poi, come promesso, ho finito di abbellire la parte sotto, la parte dove ci sono tutte le casse, del mob spawner. Perciò vi ci porto subito. Eccoci qua ragazzuoli, siamo arrivati. Innanzitutto cosa ho fatto? Ho messo lo stesso pavimento che c'è di qua, poi ho fatto il tetto uguale, che quindi dia un senso di continuità, ho fatto il muro diverso rispetto a quello che c'è di là, come potete vedere, l'ho riempito di standardi in modo da non lasciarlo del tutto vuoto, quindi da mettere un po' di colore, perché come potete vedere il muro è molto alto e senza gli standardi sembrava brutto. Ho messo un ulteriore fornace e poi ho coperto tutte le casse in modo che non sia brutto da vedersi tutto l'insieme di casse, di hopper, eccetera. Cosa ho fatto però? Cosa ho lasciato? Questa serie di hopper li ho lasciati liberi perché devo poterli utilizzare visto che sono pieni. E poi di qua ho lasciato queste casse da utilizzare con il vetro in modo che si possono aprire, perché se ci avessi messo sopra un blocco solido non avrei potuto aprirle. E di qua ho fatto il backstage, diciamo, della nostra farm. Quello che faremo oggi è una bellissima farm di mucche, perché mi serve la pelle, mi serve la carne cotta chiaramente, farò in modo che la carne esca direttamente cotta in modo da non dover cuocerla io ogni volta. E poi mi serve la pelle per poter fare i libri, per poi poter utilizzare i libri per incantare le cose, per fare la tavola degli incantesimi, per fare poi le librerie, quindi per poi continuare nella nostra serie, nel nostro mondo, per poter fare un progresso in più, perché gli incantamenti sono una cosa molto molto importante per me. Perciò direi che ci vediamo, visto che sta anche diventando notte, già alla casa e alla cassa che ho creato dove ci sono tutti i materiali. Ed eccoci arrivati a casa. Guardate questa brutta stregaccia. E stregaccia? Ah, già morta. Comunque, qua ho preparato, come vi dicevo, già tutta la cassa con le cose che ci serviranno per creare la nostra farm di mucche. Ora, prendo il tutto, sperando che mi ci stia, e poi ci dirigiamo verso il posto che ho scelto per fare la farm. La farm la voglio fare precisamente qua sopra, dove ci sono le caverne, dove di là, dietro questi alberi, c'è la casa. Allora, voglio farla verso di qua, in modo da poi poter fare una pixel art di una testa di mucca sopra. Poi ve la farò vedere, ma quella la faremo nella prossima puntata. Allora, innanzitutto iniziamo togliendo tutta questa erba, poi dobbiamo scavare una buca di 5x3. Dove qua andrà la nostra base? Precisamente così. Ok? Qua andrà la nostra cassa. Qua dietro ci vanno tre hopper. Uno, due e tre. Dopodiché, dobbiamo costruire un muretto, perfetto. Poi mettiamo un distributore qua, un distributore qua. Poi, i due osservatori li mettiamo uno qua e uno qua. Qua mettiamo la pietra e qua mettiamo la pietra. Poi, in questo piccolo spazzettino, mettiamo la redstone. L'unico pezzo di redstone che ci servirà per questa farm. Dopodiché, dobbiamo mettere la slab qua, due botole, una qua e una qua. La fornace la mettiamo qua, non così però. Metterla rivolta dalla parte opposta. Per così la mettiamo, la nostra fornace, con sopra un pulsante. Qua mettiamo un blocco, non qua. E un blocco anche qua. Poi qua cosa va messo? Va messo un altro distributore. E pian piano si sta facendo già la nostra farm. Un distributore che è rivolto verso di qua. Poi devo mettere qua una botola. Qua una botola. E togliere questo blocco che non ci servirà. Mettiamo una copertura di tutto sopra, tranne di questo preciso punto qua. Dove questo preciso punto verranno poi messe le mucche. Prendiamo il vetro. E poi la farm è quasi conclusa. Perché? Cosa manca? Adesso risaliamo, ma mettendo le scale. Perché durante l'utilizzo della farm dovrò salire e scendere. Qua ci va un pulsante di legno. Dentro questo distributore ci va un secchio d'acqua. In modo che io schiaccio qua, manda l'acqua. E quando rischiaccio la toglie. Dentro questo distributore un secchio di lava. E dentro l'altro distributore un altro secchio di lava. Questo perché? Quando io schiaccerò qua, manderà la lava. E poi la riprenderà poco dopo. Allora vi spiego il funzionamento generale di questa farm. Semplicemente, qua sopra ci vanno le mucche, quelle grandi. Questo serve per nutrirle, perché quando ci saranno le mucche poi verranno tirate su. E io con il grano le nutrirò e farò crescere i bambini. Dopodiché, cosa succederà? I bambini, al di là che mi sono buttato, verranno mandati qua sotto. Ok? Perché passeranno sotto queste botole. Che saranno aperte in questo modo. Poi vi spiego perché poi le dovremo chiudere. Dopodiché, quando i bambini diventeranno grandi, io schiaccerò la lava e ucciderà solo le mucche grandi. I bambini è brutto da dire. Ucciderà solo le mucche grandi. E quindi, questa cassa raccoglierà pelle e carne già cotta. Ora vado a dormire e ci vediamo dopo. Uh ragazzi, ecco una novità. Prima di tornare alla nostra farm. Ho un cane. L'ho trovato esplorando qua vicino. E avevo degli ossi perché, sapete, giro quasi sempre ormai con delle ossa, visto che ho la farm di scheletri. L'ho domesticato e poi, vabbè, l'ho lasciato qua dentro il granaio. Figo, vero? Comunque, ci vediamo alla farm. Eccoci qua alla farm. Eccola lì. Che bella. Allora, adesso cosa dobbiamo fare? Non abbiamo mica finito. Perché? Dobbiamo innanzitutto risalire un attimo qua. Poi dobbiamo mettere due leve. Una qua e una qua, l'avete visto? Perché ci sono queste leve? Chiudendole, come potete vedere, non permettono ai vitelli, quando farò nascere poi i bambini dalle prime mucche, di scendere. E quindi mi permetterà di tenere le prime mucche là dentro. E poi, quando sarò arrivato al numero desiderato, quindi 24 mucche, aprirò e i vitelli potranno scendere e non rimarranno più chiusi qua dentro. Ora però teniamo chiuso perché non ci serve avercelo aperto. Adesso che abbiamo finito la nostra farm, che cosa facciamo? Facciamo un percorso per attirare le mucche verso là sopra. Quindi ho portato un sacco di terra per questo motivo. Allora, le nostre mucche sono là e là. Perciò in realtà me ne bastano due, perché portare qua le mucche saranno a rottura di maroni pazzesca. Quindi iniziamo costruendo il nostro percorso. Parte da qua sopra, perciò facciamo una cosa fatta proprio bene bene bene, in modo che una volta arrivati qua non possano assolutamente più andare da nessuna parte. Devono per forza finire qua dentro. Vabbè ragazzi, facciamo una cosa. Una volta che ho finito di fare il passaggio per le mucche, ci rivediamo perché ci metterò una marea di tempo a farlo bene. A tra poco. Ecco qua creata la nostra stradina per le mucche. Ora andiamo a cercare di prenderle perché è la cosa più importante. Io adesso dovrò andare girato di spalle per attirarle facendo in modo che non si distraggano. Se vengono già tutte e due, se riesco già a portarle tutte e due, è qualcosa di spettacolare perché faccio riprodurre loro e pian piano creeranno altri bambini senza dover portare tante mucche là dentro che è una roba super pallosa. Una c'è già distratta perché le mucche hanno un deficit di attenzione. Vieni qua dentro mucca. Vieni. Fatti fregare, vieni. Perfetto, brava, brava, bravissima, brava, bravissima. Sono finito io dentro il buco. Che idiota. Sono finito io dentro il buco. In effetti era comprensibile questa cosa. Vieni mucchina, vieni. Vieni, vieni, vieni. Ole, la prima è andata. Ora, andiamo a prendere la seconda vedendo di non finire anch'io dentro il buco di nuovo. Vieni con me. Allora. Hop. Guarda qua. Dai mucca. Dai. No, no mucca, no mucca. Dove vai? Dai. Palle. Vieni qua. Scendi, mannaggia, a te. Scendi. Sapevo che ci sarebbero stati problemi. Scendi. È una roba incredibile quanto siano stupide ste mucche. Vieni qua. Qua. Ma gioca a nascondino. Dai. Cosa stai facendo? Ti prego. No, non di nuovo. Ma porca Eva, porca. Vieni qua. Non uscire te, non ti azzardare. Mannaggia a te, mannaggia. Se un creeper mi ammazza per colpa tua, sei finita. Aspetta. Rimani lì. Ti ci butto dentro. Vai. Sì. Sì. Vittoria. Vittoria. Ce l'ho fatta. Ho messo dentro le mucche. Ora, cosa facciamo? Chiaccia il bottone che ho tolto. Sì, ho tolto il bottone. Non si sa perché. Lo schiaccio. Salgono. Le faccio innamorare. Fanno il pargolino. E il pargolino rimane giustamente qua. In ogni modo, ho fatto. Ora, io me ne vado a dormire. Però vi dico che la puntata si conclude qua. Sperando che non ci siano dei creeper o qualcosa in agguato. Mi ringrazio tanto per la visione. Vi dico che la prossima puntata la spenderemo per abbellire questa farm. Però ho un dubbio. Il colorante marrone si fa col cacao. Io il cacao non ce l'ho. Quindi potrebbe essere che verrà spesa per trovare il cacao. Quindi una puntata di esplorazione. E quella dopo la utilizziamo per fare effettivamente la farm abbellita e tutto alla nostra pixel art. Vedremo, vedremo. Dipende come mi gira. In ogni caso, vi ringrazio tanto per la visione. Vi invito a cliccare mi piace se il video vi è piaciuto. E iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Vi auguro una buona continuazione e ciao ciao belli. Ciao ciao.